Radio Bari.com, persone speciali su Radio Bari. Ed eccole qui le persone speciali di questa mattina, parleremo della Puglia in tavola, lo faremo insieme alla dirigente scolastica dell'Istituto Perotti Rosangela Colucci, benvenuta Rosangela. E lo faremo anche con un ritorno, con Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nicolaus. Benvenuto Vito. Grazie, buongiorno. Allora, stiamo parlando di un appuntamento ormai giunto alla quarta edizione, è diventato un po' una tradizione, una piccola tradizione cittadina. La Puglia in tavola, che cos'è la Puglia in tavola? La Puglia in tavola è appunto, siamo la quarta edizione della Puglia in tavola, è diventato ormai un evento di tradizione, unisce sia la Fondazione Nicolaus, ringrazio ancora una volta Vito Giordano sempre per questo coinvolgimento, che l'Istituto Alberghiero Perotti di Bari. In una sfida bella, vincente, perché vede coinvolti i nostri ragazzi, i nostri chef, lavorano tutti quanti in squadra, con la ricerca di un menù particolare. Eh sì, perché che cosa succederà praticamente domani sera, giusto? Domani sera, sì. Domani sera. Niente, faremo una cena che sarà con dei pochi dei chef nostri internazionali, dei chef pugliesi che ormai hanno riconosciuti a livello non soltanto pugliesi, ma sia nazionale che internazionale, e premieremo delle strutture, sia tre chef, i tre ristoranti, e più andremo a premiare tre strutture che si sono distinte, parliamo di strutture alberghiere, nel portare il discorso Puglia sempre in giro nel mondo, e oltretutto hanno contribuito all'incremento del turismo in Puglia. La cosa bella però è che parte integrante, sia della cena, sia per quanto riguarda la parte culinaria, che anche per quanto riguarda la parte in sala, sono proprio i ragazzi del Perotti, e per loro è un modo per mettersi un po' in mostra, loro studiano e lavorano, mettono in pratica i loro saperi durante tutto l'anno scolastico, poi è anche bello che abbiano in qualche modo un ritorno. Sì, saranno coinvolte tre brigate diverse, utilizziamo il termine brigata in cucina e anche in sala, presi in modo trasversali proprio per creare la squadra, quindi dai più piccoli ai più grandi, i grandi fungeranno appunto da mentor, da tutor nei loro confronti, con la squadra anche del settore ricevimento, e sono coloro che accolgono gli ospiti e li coccolano durante tutta la cena. E sono bravissimi poi tra l'altro, sono molto molto professionali, perché magari uno si immagina dei ragazzi delle superiori, insomma inesperti, invece sono molto molto professionali. Vito tu che li hai... Sì, sì, sono eccezionali, perché si sono impegnati in queste edizioni in maniera incredibile, e sembra di stare in un ristorante di altissima... È vero, è vero, è vero, anche perché viene allestito tutto all'interno di una delle sale del Perotti, quindi sembra veramente di stare in un ristorante a 5 stelle. Certo, e il loro habitat lavorativo, quindi non soltanto di esercitazione a questo punto speciale, aperto al territorio, ma appunto l'ambiente in cui loro si confrontano ogni giorno, per poi affrontare il mondo del lavoro. Sicuramente in questi quattro anni, rispetto alla prima edizione, magari ci sarà un maggior numero di ragazzi che vogliono partecipare. Le chiedono spesso di, insomma, di essere parte integrante della brigata? Come funziona? Sì, chiaramente facciamo una selezione. Per loro deve costituire un premio, e quindi da un punto di vista non soltanto comportamentale, che nel nostro settore è fondamentale, perché altrimenti non si può lavorare in squadra, ma anche di profitto, naturalmente sono i migliori. Per cui sono i ragazzi che si sono conquistati, voglio dire, la partecipazione. E questo per noi è molto importante, a parte per Puglia a tavola, che è uno degli eventi più importanti del nostro istituto, ma di tanti altri che si avvicinano durante l'anno, per noi, ripeto, è molto importante, perché costituisce uno stimolo continuo, e si basa molto sulla competizione, chiaramente. Sì, uno stimolo anche per loro, perché poi, soprattutto, insomma, sia per chi è in cucina, sia per chi è in sala, è una prova importante, anche perché al tavolo ci sono rappresentanti istituzionali. Certo, oltre ai rappresentanti istituzionali, abbiamo tutti i rappresentanti di categoria, che collaborano per questa manifestazione, e quindi ci aiutano un pochettino a portare avanti un progetto che non solo è diventato un progetto importante, perché dopo tanti anni cominciamo a essere radicati sul territorio, ma questo progetto lo stiamo portando a livello internazionale. infatti nel mese di settembre abbiamo fatto una piccola cosa con il Puglia a tavola a Stettino, dove abbiamo premiato uno chef di Stettino che ha cucinato un piatto pugliese, devo dire, veramente bene. Era buono, era buono. Com'era? Com'era fatto? Ha fatto un piatto di orecchiette errate. Ah, beh, insomma, semplice, ma efficace. Abbiamo portato le rate dalla Puglia, ma lui è stato molto bravo perché ci ha messo qualcosa di suo, e quindi pertanto ha portato una novità diversa da quello che è il solito che è la nostra cucina, quindi è stata un'esperienza interessante. E beh, immagino, si può dare qualche, diciamo, sbirciatina al menù? Possiamo dire almeno quali saranno gli ingredienti base? Allora... Sicuramente il ruolo principale in questo menù l'hanno avuto sicuramente quelli che sono gli elementi provenienti dalla terra. E per questo ringraziamo molto Col Diretti che ha avuto una funzione importante proprio perché attraverso questa collaborazione abbiamo acquisito i prodotti della terra. Quindi in un menù tipicamente pugliese con prodotti della terra la visione però si sposta in maniera globale diciamo a tutto il territorio. Quindi starà da divertirsi. Riprendendo quello che appunto diceva Vito non si tratta soltanto di una visione ormai limitata alla Puglia ma la Puglia che però viene proiettata nel mondo e quindi la cucina pugliese nel mondo. L'importanza del Made in Puglia. Assolutamente. Ci sarà insomma da vederne delle belle ma soprattutto da assaggiarne delle belle. Allora noi siamo davvero in chiusura. Io vi ringrazio per essere stati qui con me in bocca al lupo per questa quarta edizione. Grazie a Rosangela Colucci dirigente del Perotti grazie anche al presidente della Fondazione Nicolaus Vito Giordano Cardone grazie per essere stati qui con me ovviamente un bacio a tutti i ragazzi perché se lo meritano. Io restituisco la linea e la regia di Telebari ringraziando Federico Semplice però noi continuiamo su Radio Bari 88.8 www.radiobari.net Grazie per aver guardito il video Marshall